La sua situazione, mi dispiace dirglielo, non è delle migliori. Dovrà tirare fuori un sacco di soldi di risarcimento danni, avvocati. Noi chiediamo solo che lei lasci questo stato. Lei non torna e noi non procederemo. Se poi dovesse contestare la custodia di Michael, signor Cutler, non avrebbe scampo. Ci serviamo dei migliori studi legali. È tutto. Che ne dice? È Mike che deve dirlo. Basta chiederglielo. Michael? Vieni. Come stai, Mike? Anche tu mi consigli di lasciare questo stato? No. Meno male, pensavo che ti avessero condizionato. Io non so che pensare. Non puoi avere fiducia in me. Non ho mai fatto niente per meritarmela. Sai, io ho sempre vissuto qui. Voglio dire... Insomma, se io venissi con te, dove andremo? Come vivremo? Dove? Insieme. È l'unica cosa che posso garantirti. Se dovessi abbandonarmi, che cosa farei? Mike, io... Io sono un padre che ha fatto un bel po' di casino, io lo so. Ho fatto tanti, tanti errori. Ora cerco solo di rimettere le cose al loro posto. E... Io voglio... Vorrei dare a te ciò che sento dentro, anche se forse non ho molto. Forse non avrò mai tanto. Ma quel poco... Quel poco di esperienza che ho fatto, voglio metterla al servizio dell'unica persona che significa qualcosa per me. Tu, no? Tu? Non posso. Non posso venire con te. Bene. Scusa. Sì. Sì, lo capisco. Mike... Cerca di ricordare una cosa. Il mondo non va incontro a nessuno. Ricordalo. Fa sempre quello che è meglio per te. Fallo sempre. Ritiro la denuncia? Sì. Fui. Fui. Fui.